ciao a tutti e bentornati su questo canale in questo video oggi andremo a testare estensivamente quella che è l'antiaerea della roma e a studiarla nel dettaglio faremo varie prove nella training room contro la porta aerei più utilizzata tier 8 la shokaku che verrà guidata da un mio compagno di clan molto bravo nell'utilizzare le porta aerei e vedremo quanti dei 18 aerei di attacco che ha la shokaku quindi 18 aerei tra bombardieri e siluranti riusciremo ad abbattere faremo varie prove ci saranno due attacchi per ogni tipo di setup che utilizzeremo il setup che andremo ad utilizzare saranno per iniziare solo ed esclusivamente la bandiera november eco 7 7 quindi la bandierina per l'antiaerea che ci dà un boost del 10 per cento alle statistiche di base non inizio utilizzando solo le statistiche di base della nave perché tanto la bandierina è facile da trovare nei container è disponibile a tutti senza dover spendere punti del capitano per cui volendo è sempre disponibile inoltre un boost del 10 per cento è poca cosa per cui visto che c'era l'abbiamo utilizzata per il primo test dopodiché andremo ad utilizzare sempre la bandierina dell'antiaerea e anche bft basic firing training altrimenti addestramento di tiro base in italiano dopodiché andremo ad aggiungere a bft manual per l'antiaerea quindi tiro manuale per l'antiaerea e infine aggiungeremo anche advanced firing training dopo averla testata con tutte queste skill per l'antiaerea andremo invece a togliere advanced firing training per un attacco finale in cui andremo ad utilizzare bft manual per l'antiaerea e il doppio caccia perché questo perché voglio testare anche quella che è l'efficacia del caccia italiano imbarcato che ha delle buone statistiche infatti ha più vita rispetto a quello giapponese in teoria anche rispetto a quello americano e ha anche un buon valore di danno per secondo per cui dovrebbe poterci aiutare oltre a questo poi per finire andremo anche a testare quella che è la resistenza della roma contro le bombe ap degli americani le bombe da 1000 libre ap vedremo come reggeranno i 32 mm di prua e poppa della roma e come reggerà il ponte da 45 mm contro per l'appunto le bombe ap degli americani detto questo quindi andiamo un attimo a vedere quella che è l'antiaerea che abbiamo disponibile su questa nave ricordatevi che le statistiche sono boostate del 10 per cento perché per l'appunto abbiamo la bandierina dell'antiaerea attiva per iniziare a corto raggio a 2.0 chilometri abbiamo 60 di danno grazie a queste postazioni di 20 mm binati breda del 35 dopodiché passiamo alle postazioni singole da 37 mm di cannoni sempre breda del 39 abbiamo poi delle postazioni da 2 37 mm del 32 breda con 102 di danno sempre 3 chilometri e mezzo e infine a lungo raggio per così dire abbiamo questi cannoni da 90 mm della 8 del 39 quindi come statistiche non siamo messi molto bene tutti e tre i gruppi quindi corto raggio medio raggio dato dai due gruppi da 37 mm e la lungo raggio data dalla 90 mm hanno tutti e tre un danno abbastanza basso i 20 mm fanno solo 60 di danno quindi 60 a corto raggio in quella che è la medio raggio abbiamo solo 3 chilometri e mezzo che è un range basso per una medio range quasi buono diciamo è tra il buono e il basso 3 chilometri e mezzo abbiamo poco più di 140 di danno mentre invece nella lungo raggio dove il lungo raggio praticamente è il range medio per certe altre nazioni 4 chilometri è molto basso come range della antiaerea a lungo raggio abbiamo 125 di danno che è ok è un buon danno di quella a lungo raggio certo non è come quella americano però per l'appunto gli americani sono i più potenti a livello di antiaerea batte invece quella che è l'antiaerea giapponese e inglese a lungo raggio tuttavia comunque per l'appunto ha un buon danno ma poco range per cui soffriremo abbastanza da quel punto di vista visto che al massimo potremo iniziare ad ingaggiare a 4 chilometri quindi gli aerei nemici sono già molto vicini e tutti i gruppi per l'appunto non hanno chissà che valori di danno detto questo quindi adesso inizieremo a fare i nostri vari test contro la porta aerei shokaku e vedremo quanti aerei riusciremo ad abbattere sui 18 disponibili appunto tra aereosi luranti e bombardieri eccoci qui quindi con il primo attacco che andremo a fare vi ricordo un attimo quelli che sono i valori come potete vedere abbiamo 60 di danno a corto raggio 141 al medio e 125 di danno sulla lungo raggio la corto raggio a 2 chilometri di range la medio raggio a 3 chilometri e mentre la lungo raggio a 4 chilometri stiamo testando in questo momento contro una shokaku e utilizzando solo la bandierina per l'antiaerea andremo ad utilizzare anche quella che è la selezione manuale delle squadre di aerei nemici perché la selezione manuale dà un boost al danno che fanno le nostre antiaerea del primo attacco di bombardieri siamo riusciti ad abbatterne solo uno su 10 prima che sganciasse per cui non abbiamo limitato la potenza di attacco e anche qui come potete vedere e come vi preannunciavo già dal porto il danno di base dell'antiaerea di questa nave è basso infatti abbiamo abbattuto solo un silurante su 8 prima che riuscisse a sganciare in totale quindi 4 aerei su 18 per il primo attacco come detto prima andremo a fare due prove per ogni tipo di setup questo quindi è il secondo attacco sempre utilizzando solo la bandierina per l'antiaerea al primo attacco ne abbiamo abbattuti 4 vedremo se questo andrà un po meglio però ricordatevi che su tutte le prove che faremo nel secondo attacco c'è una piccola diminuzione della potenza antiaerea perché i bombardieri attaccando la nave distruggono delle parti di antiaerea per cui avremo un pochino meno danno anche in questo caso abbiamo abbattuto un solo bombardiere prima che riuscisse a sganciare e un altro mentre si stava ritirando degli aerosituanti questa volta non ne abbattiamo nessuno prima che riesca a sganciare ne abbattiamo due solo dopo che hanno già sganciato per cui come potete vedere utilizzando solo la bandierina per l'antiaerea siamo sicuramente vulnerabili alla porta aerei nemica in totale 5 aerei ne abbattiamo un altro quindi 5 aerei per il secondo attacco utilizzando solo la bandierina per l'antiaerea molto vulnerabili quindi a quella che è la porta aerei nemica ora invece andremo a testare con bft e la bandierina per l'antiaerea 72 di danno nella corto raggio 169 per la medio raggio e 150 per la lungo raggio utilizziamo sempre la selezione manuale che ci dà un piccolo boost al danno e vedremo se questa volta riusciremo ad abbattere qualcosina in più siamo riusciti ad abbattere due bombardieri prima che sganciasse questa volta e un altro in ritirata due siluranti di cui solo uno prima che sganciasse e un altro in ritirata quindi 6 aerei su 18 in totale per il primo attacco andando ad utilizzare solo la bandiera per l'antiaerea e bft quindi addestramento di tiro base passiamo ora invece al secondo attacco sempre utilizzando la bandiera per l'antiaerea e bft passiamo ora invece al secondo attacco e la bandiera per l'antiaerea e bft ricognitore di ritorno probabilmente un bombardiere prima che attaccasse uno che si ritirava e un aereo silurante prima che sghiacciasse riusciamo quindi ad abbattere 5 aerei su 18 in quello che è stato il secondo attacco utilizzando la bandiera per l'antiaerea e bft rispetto al primo attacco quindi abbiamo un incremento di 1-2 aeree in più rispetto a quelle che sono le statistiche di base ora invece andremo ad utilizzare anche manual per l'antiaerea ciò significa che avremo 72 nella corto raggio 169 nella medio e invece che 150 in quella a lungo raggio quando selezioniamo una squadra andremo a 300 di danno andiamo a raddoppiare il danno della lungo raggio per cui faremo sicuramente molto più danno con l'antiaerea a lungo raggio perché 300 è finalmente un buon valore abbattiamo infatti subito un bombardiere nemico due bombardieri nemici due bombardieri prima che sganciassero un terzo subito dopo lo sgancio un quarto bombardiere abbattiamo già un aereo silurante nemico in questo primo attacco quindi utilizzando la bandiera per l'antiaerea bft e manual portiamo a casa 8 aerei su 18 sicuramente è meglio rispetto a prima anche perché ci sono stati più aerei abbattuti prima che sganciassero non dopo che hanno sganciato e quindi non durante la ritirata ma ancora prima che potessero droppare andiamo quindi ora a ripetere l'attacco questo è il secondo attacco utilizzando la bandiera per l'antiaerea bft e manual già con questo tipo di setup la build antiaerea comincia a costare bft e manual insieme sono 7 punti come potete vedere abbiamo abbattuto 8 aerei su 18 anche nel secondo attacco quindi rispetto ad utilizzare solo bft abbiamo 2 aerei in più qui la build antiaerea diventa davvero costosa con bft manual e aft arriviamo infatti a dover mettere ben 11 punti nell'antiaerea per poter fare questa build l'antiaerea a lungo raggio tra l'altro con aft arriva addirittura a 4 km 8 che è comunque un range molto basso non vi consiglierei mai di mettere l'upgrade per il range extra dell'antiaerea perché la roma ha già una dispersione abbastanza cattiva per cui andare a mettere l'upgrade per l'estensione del range dell'antiaerea non aiuterebbe sicuramente con le performance generali della nave quindi almeno quello ce lo risparmiamo sono già tanti punti spesi così come potete vedere abbiamo abbattuto 7 aerei su 18 in questo attacco utilizzando un sacco di skill per l'antiaerea ora invece questo sarà il secondo attacco sempre utilizzando la bandiera per l'antiaerea bft manual e aft quello che più si fa sentire sicuramente è l'incremento del range dell'antiaerea a lungo raggio quindi l'antiaerea che può fare 300 di danno quando utilizziamo la bandiera per l'antiaerea bft manual che arriva a 4 km 8 che per l'appunto è comunque poco questo secondo attacco infatti ci va molto meglio abbattendo ben 15 aerei su 18 tuttavia è una build molto molto costosa 11 punti sono davvero tanti e comunque non abbiamo fermato il danno della porta aerei riuscita comunque a danneggiarci per quanto noi abbiamo abbattuto i suoi aerei qui invece andiamo ad utilizzare una build diversa andiamo di bandiera antiaerea bft manual per l'antiaerea e il doppio caccia imbarcato e il doppio caccia imbarcato come potete vedere stiamo abbattendo molti aerei i caccia ci hanno aiutato molto con quelli che erano l'attacco dei bombardieri iniziale tutti e due sono stati allargati infatti non ci hanno quasi fatto danno i bombardieri abbiamo preso un solo siluro qui in questa parte finale abbiamo abbattuto ben 14 aerei su 18 con una build che costa molto meno rispetto a quella di prima invece che 11 punti sono solo 8 punti spesi detto questo quindi abbiamo finito tutte le prove contro la Shokaku ora andremo a testare la resistenza della Roma contro le bombe AP della Lexington poi alla fine del video faremo le nostre considerazioni su quelle che sono le build antiaere migliori per la Roma o comunque delle considerazioni generali sull'antiaerea di questa nave come potete vedere le bombe AP fanno davvero molto molto male sulla Roma sono andate 13 bombe a segno tutte sulla prua che è da 32 mm quindi non corazzata come il ponte e ci hanno fatto ben 58.000 di danno quasi shottata la Roma praticamente sì ovviamente siamo fermi non stavamo manovrando né nulla stiamo solo testando la resistenza della nave in sé però 58.000 di danno è veramente tanto ora un secondo attacco qui va a droppare anche invece su quello che è il ponte qui ha droppato anche la nave tuttavia riesce comunque a finire di ucciderci con i 20.000 di vita che ci stavano rimanendo per cui come potete vedere se il drop avviene sulla prua che è da 32 mm fa malissimo quasi shottata la nave e inoltre a quanto pare anche il ponte da 45.000 non ferma anche da niente infatti qui ci droppa di nuovo con entrambe le squadre 13 bombe a segno colpito la nave tra il ponte e la poppa quindi tra il ponte da 45 mm e la poppa da 32 mm togliendoci anche qui questa volta quasi tutta la vita con 48.000 di danno totale all'incirca ora proviamo invece a fare dei test con dei drop da dietro e proverà a droppare sulla poppa della nave invece che sulla prua la prima squadra di bombardieri che droppa perfettamente sulla poppa con tutte e sette le bombe a segno ci crea solo circa 8.000 di danno quindi molto meno rispetto a prima la seconda squadra di bombardieri ci colpisce tra il ponte e la prua probabilmente qualche bomba ha colpito le torrette infatti ci ha fatto molto meno danno poco più di 3.000 tra 3.000 e 4.000 forse è l'angolo che è peggiore arrivando da dietro non ne sono sicuro però come avete visto l'attacco da dietro ha fatto molto molto meno danno rispetto a quello di prima ora quindi proviamo un altro attacco in frontale cercherà di droppare verso il centro della nave le bombe ci colpiscono tra il centro e la poppa principalmente a poppa e ci tolgono quei 23.000 di vita rimanenti per cui davvero molto molto danno anche questa volta quindi prime conclusioni sicuramente la roma non è molto resistente contro le bombe ap soprattutto se colpite a prua come avete visto all'inizio le 13 hit a prua ci hanno fatto 58.000 di danno ovviamente eravamo un bersaglio fermo non in movimento non stavamo manovrando avevamo l'antiaerea spente non c'erano altre navi che ci potessero aiutare però è una quantità di danno veramente veramente grande detto questo quindi torniamo in porto e facciamo le nostre considerazioni finali su quella che è l'antiaerea della roma bene rieccoci qui nel porto che cosa abbiamo visto quindi da tutti questi test come sapevamo la roma sicuramente non sarebbe stata una corazzata con un elevato livello di antiaerea infatti con solo la bandiera dell'antiaerea abbattiamo mediamente 4 aerei utilizzando la bandiera per l'antiaerea e bft abbattiamo circa 6 aerei andando ad aggiungere manual diventano 8 gli aerei abbattuti andando ad aggiungere anche aft mediamente siamo sugli 11 aerei all'incirca mentre invece se switchiamo aft e andiamo a prendere il doppio caccia quindi doppio caccia bft e manual abbiamo visto siamo riusciti ad abbattere 14 aerei e anche ad avere il drop più largo quindi modalità panico per entrambe le squadre di bombardieri quindi probabilmente quella è la build antiaerea che ci può più aiutare anche perché costa 8 punti mentre invece la build con aft costerebbe 11 punti prendere aft e anche il doppio caccia sarebbero 12 punti che sono tantissimi veramente tantissimi inoltre vi ricordo che tutti questi test sono stati fatti contro una porta aerei giapponese quindi contro aerei che sono mediamente più fragili rispetto a quelli americani e che sono di tier 8 ma essendo una corazzata di tier 8 noi ci possiamo benissimo trovare anche contro porta aerei di tier 9 e 10 dove lì c'è un boost alla vita dato dal modulo di tier 9 molto grande per cui dimezzate essenzialmente la quantità di aerei che in realtà andreste ad abbattere contro quelle che sono Taiho, Midway, eccetera 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 per cui già così non riuscivamo propriamente a bloccare l'attacco di una porta aerei di tier 8 giapponese che riusciva a farci molto danno pensatevi contro porta aerei di tier 9 o 10 quindi generalmente l'antiaerea della Roma è scarsa sicuramente come già sapevamo è possibile fare una build antiaerea? sì, ma bisogna spendere parecchi punti andiamo a vedere quindi quelle che sono le build più fattibili e quelle che vi sconsiglio innanzitutto prendere solo la bandierina dell'antiaerea ovviamente è quella meno costosa il che però comporta che dobbiate stare attenti a come giocate non isolarvi troppo perché ovviamente una corazzata isolata è bersaglio facile per una porta aerei quindi stare vicino ad alleati che possono aiutarvi con il defensive fire magari incrociatori o altre corazzate con un buon setup di antiaereo magari avere supporto da parte della porta aerei alleata grazie alle squadre di caccia quella è sicuramente la meno costosa e probabilmente sarà anche la migliore andremo a vedere alla fine qual è il ragionamento che ci sta sotto andiamo a ridistribuire un attimo qui i punti allora per iniziare il doppio caccia è una skill che sicuramente vi può aiutare come abbiamo visto alla fine perché il caccia imbarcato italiano è buono ha molta vita e fa un danno decente e in più soprattutto vi allarga il drop di qualsiasi squadra che intercetta non importa di che tier sia che sia di tier 8 che sia di tier 10 manda gli aerei attaccanti in panico e appunto allargano il drop quindi è più difficile che vi colpiscano la nave è utile ci sono tre skill utili a tier 1 per la Roma che sono priority target, preventive maintenance e il doppio caccia quindi volendo questa può essere una skill che potete andare ad utilizzare l'unico problema con il prendere il caccia imbarcato italiano è che non potete prendere lo spotting prendere lo spotter vi aiuterebbe perché avete solo 18 km di range tuttavia ve la potete cavare bene perché col concealment potete scendere a 11.2 se non mi sbaglio per cui per l'appunto utilizzando bene il concealment il range limitato non si sente granché però se volete un po' più di range vi serve lo spotter che quindi contrasta con l'avere il doppio caccia andare a prendere solo BFT non vi conviene assolutamente prendere BFT da solo non ve ne fate nulla perché vi serve un gruppo di antiaerea che abbia molto danno prendere solo BFT vi dà un po' più di danno su tutti i gruppi antiaerei ma non ne avete già di base uno forte come succede magari sugli americani per cui arrivate ad avere tipo 150 di danno sulla antiaerea a 4 km su quella medio arrivate sui 170 all'incirca più o meno utilizzando anche la bandierina per l'antiaerea e sui 70 a 2.0 però come avete visto mediamente sono due aerei in più due aerei in più giapponesi di tier 8 come già vi ho fatto notare per cui è solo uno spreco di punti prendere BFT da solo è uno spreco di punti se volete fare una build antiaerea dovete andarvi a prendere BFT abbinato con manual questa build qui BFT e manual e magari anche il doppio caccia probabilmente è la build antiaerea più utile se volete fare una build antiaerea per la Roma perché a questo punto vi rimangono ancora 9 punti da poter mettere giù con quei 9 punti potrete andare a prendere Expert Marksman Superintendent per una carica di vita in più e Consilment Expert per sfruttare l'ottima mimetizzazione della Roma questa qui che vedete è la build antiaerea migliore che potete andare a fare sulla Roma questa è quella che vi aiuterà di più in assoluto ed è la più efficiente per il costo che voi andate a spendere per l'appunto doppio caccia vi aiuta, BFT da un boost a quello che è il danno di tutta la vostra antiaerea ma soprattutto va a dare il boost del 20% all'antiaerea a lungo raggio che poi viene raddoppiato dall'effetto di manual per cui con BFT, la bandierina e manual voi andate ad avere 300 di danno a 4 km che è un range molto basso a 4 km ok però avete finalmente un buon livello di danno in uno dei tre gruppi essenzialmente avere una buona antiaerea significa quello avere un elevato livello di danno almeno in uno dei tre gruppi con questa build è arrivata ad avere 300 di danno a 4 km per cui almeno quello vi può aiutare in più il doppio caccia manda in panico gli aerei attaccanti o magari ne tira anche giù qualcuno in più per cui questa è la build più efficace qua arrivate su circa i sempre 170 punti di danno a 3 km e mezzo e 72 di danno a 2,0 andare anche a prendere AFT sarebbero 4 punti in più sono tanti punti per un guadagno molto piccolo perché il range di base è corto per cui con un incremento del 20% del range di base arrivate comunque a un range che non è nulla di che arrivereste a 4,8 km su quella a lungo raggio che è quasi un chilometro in più però comunque è basso non raggiungete praticamente i livelli di base di lungo raggio di altre nazioni per dirvi qua arrivereste sui 4,2 km qua sui 2,4 km comunque rimangono range molto bassi prendendo AFT e sono 4 punti sono tanti 4 punti anche perché in questo caso ad esempio non dovreste andare a prendere consilmente expert per prendere AFT oppure per voler fare la build completamente anti-aerea dovreste rinunciare expert marksman superintendent magari prendere AFT con i punti che vi rimangono almeno consilmente expert per sfruttare la mimetizzazione della Roma e con l'ultimo punto spenderlo magari su priority target però secondo me non vale minimamente la pena ci sono tanti tanti punti spesi per un anti-aerea che alla fine non vi darà chissà che guadagno dovete per forza trovarvi contro una portaerei di tier 8 e non più alto perché sennò vi fa molto danno comunque abbattete la metà degli aerei e in più non è neanche detto che venga ad attaccare proprio voi già è raro trovare le portaerei ne trovate in una partita su 4 in più proprio deve venire ad attaccare voi magari c'è che ne so un qualche altro incrociatore alleato vicino per cui non si avvicina per quello magari c'è un qualche incrociatore americano e già li tira giù tutti lui sono tanti punti spesi per un guadagno che è molto relativo cioè dipende tutto dalla situazione in cui siete se giocate bene con attenzione le partite in cui c'è una portaerei potete anche evitare semplicemente di esporvi a il danno appunto della portaerei nemica senza isolarvi troppo dal resto del team ovviamente saranno più difficili però è uno spreco di punti è uno spreco di punti essenzialmente andare a spendere così tanti punti per l'antiaerea quando alla fin fine non vi darà granché perché se ad esempio c'è una midway in partita se avete la sfiga di trovarvi una midway o una portaerei di tier 10 giapponese probabilmente sì gli tirerete giù 10 aerei magari con una build completamente antiaerea spendendo tutto quello che avete in antiaerea gli tirate giù 10 aerei sai che roba cioè ne hanno più di 100 dentro il ponte loro vi shottano e gli avete fatto 10 aerei non si fa tanti problemi da questo punto di vista per cui è una build che non vale sicuramente la pena se volete una build antiaerea questa è la migliore altrimenti lasciate completamente perdere quella che è l'antiaerea andate a prendere magari priority target adrenalin rush superintendent concealment expert fire prevention basic of survivability e expert marksman questa secondo me al momento sarebbe il modo migliore di spendere i 19 punti per un capitano della roma come potete vedere non c'è nessuna skill antiaerea volendo magari potreste andare a prendere il doppio caccia invece che priority target però questa è quella che nella maggior parte delle partite vi aiuterà di più perché la roma è una nave che può tankare davvero parecchio andando a prendere queste due skill fire prevention e basic of survivability la aiutate un sacco e vi rendete un tank ancora molto più forte mentre invece per l'appunto l'antiaerea vi serve non vi serve vi aiuterà a tirarne giù un po' di aerei ma non ferma completamente l'attacco se vi trovate controportieri di tier più alto sono punti spesi un po' a caso perché alla fine per l'appunto non fermate l'attacco e abbattete meno aerei di quanti ne abbattete già a tier 8 l'unica cosa che dovete fare è fare attenzione a non esporvi e stare magari vicino a qualche alleato che vi possa aiutare per l'appunto perché questa sarebbe la build migliore per la roma e come potete vedere skill per l'antiaerea non ce ne sono detto questo quindi per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto voi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale noi ci vedremo prossimamente con probabilmente la recensione della roma oppure della musashi ciao 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 ciao